L'arbitro ha fischiato l'inizio, ci attende una grande partita. Beh, entrambe le squadre hanno talento da vendere e tutto questo rende la partita una classica. Chiaramente un fallo. Possesso palla mantenuto, altra chance. Ha fermato l'attacco. Buon possesso palla durante il contrattacco. Buona mossa. Buona pressione offensiva qui, rimessa in buona posizione. C'è grande attesa per il primo gol. Se crossa bene, possono segnare adesso. Conquista nel possesso. Ha liberato. Riconquista il pallone. Ha fermato la minaccia qui. 15 minuti se ne sono andati. Continua a correre lungo la fascia destra. Possono mettere un buon cross in mezzo della destra. Hanno fatto tutto il possibile per tenere la palla fuori dall'area di rigore. Non ha raggiunto il suo compagno smarcato. Joao Alves. Miguel Garcia. Sta cercando di darla in profondità. Ancora in attacco qui. Toccato duro. Punizione. Un cartellino giallo. Devo ammettere che sembra una decisione un po' severa. Ma non ha trovato il pallone. E probabilmente questo ha contato parecchio per l'arbitro. Fallito veramente di un niente. Quindici minuti al fischio finale della prima frazione. Possesso palla di conquistato qui. Custodio. Si è mosso bene per il cross. Può essere la possibilità giusta. Possesso palla mantenuto qui. Il portiere l'ha messa sul fondo per un calcio d'aria. Lottano per il pallone in mezzo all'area. Tentativo effettuato con la giusta scelta di tempo. Il portiere si aspettava un tiro simile. Fannerud. David. Walcott. Non riesce ma di intendersi. Tonnell. Passaggio intercettato. Per Giulio Battista. Il difensore è stato rapido a capirne le intenzioni. Possesso riguadagnato. Che occasione. Molto importante qui. Siamo al termine dei primi 45 minuti. E i giocatori si dirigono adesso negli sfogliatoi. Gli allenatori avranno molto da dire. Mauro, qual è la tua opinione sulla partita fino a questo momento? Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il ritmo giusto. La speranza è che... Inizia il secondo tempo. Gli allenatori hanno avuto l'intervallo a disposizione per parlare con i giocatori. Vedremo se cambierà qualcosa nella ripresa. Hanno cambiato campo per il secondo tempo. Tonnell. Faneru. David. Mathieu. Ha fermato l'attaccante benissimo. David. Ha fermato l'attacco. Un intervento tutt'altro che azzeccato. Punizione. 15 minuti del secondo tempo. Intercettata. Possibilità in questo caso. Un الد Wow Gli allenatoriólis... Grazie a tutti. La palla è ancora loro, grande azione offensiva. Tocco senza precisione qui, sembrano insuperabili, difesa davvero impressionante. Wolko, si alza la bagnarina, pescata il fuorigioco oltre la linea dei difensori. Questo è il loro ultimo cambio possibile nella partita. Nessun gol ancora nella ripresa e adesso vedremo il primo cambio dell'incontro. Verso Giulio Battista. Siamo quasi nel quarto d'ora finale. Ottimo intervento e ripiegamento. Il difensore sapeva che la situazione era critica e non ci ha pensato due volte. Calcio d'angolo. Oh, è stato atterrato. Concesso un rigore. Il giocatore è colpito adesso in piedi. Ma penso che l'arbitro non abbia molta scelta qui. Cartellino giallo. Ed è dentro. Un grandissimo gol di destro. Lo stavano aspettando da lungo tempo. Abbiamo atteso a lungo questo gol, vero Mauro? Sì Marco, era quello di cui la partita aveva bisogno per ravvivarsi. Sembra che sia in arrivo un cambio. Fameru ha mostrato grande qualità nella difesa in questa azione. Joao Alves. messa dentro scavalcando la difesa. Pazzesco. Era quasi gol sulla destra. Ok, non ha segnato, però ha mostrato alcune carenze preoccupanti nella difesa avversaria. Gesù Navas ha riconquistato il pallone in modo eccellente. Grande opportunità per acciuffare il pareggio. liberata. Sceglie di scendere sulla destra. Palla intercettata e tentativo d'attacco bloccato. Ecco il fischio finale. La partita è finita. Hanno lottato come dei leoni oggi per portare a casa questa vittoria. I tifosi sono entusiasti non solo del risultato, ma anche della prestazione della squadra in campo. Sceglie di scendere. Sceglie di scendere. La partita è iniziata. Il pubblico è già in delirio. Atmosfera fantastica. Oggi allo stadio. Beh, entrambe le squadre hanno talento da vendere. E tutto questo rende la partita una classica. Riuscirà a tenerla? Incredibile. Davvero molto vicino. Avrebbe potuto passarla, ma ha deciso di fare tutto da solo. Bruta decisione probabilmente. Lindgren. Tonnell. Bel fatto per conquistare il possesso. Può fare qualche passo in avanti qui? La difesa ha fatto bene fino a questo momento. Giulio Battista. Capovolgimento di fronte qui. Paredes. 15 minuti trascorsi. Farneru. Miguel Garcia. Wallace. Se la mette bene in mezzo. Possono aprire le marcature. Davvero importante questa azione difensiva qui. La riceve nell'unico spazio possibile. Ci prova. Il portiere ha seguito con lo sguardo. Il pallone uscire alla sinistra del palo. Forse è stato sfortunato in questa occasione. Comunque è stato bravo a trovare lo spazio per il tiro. Ancora con il pallone. Pallone buttato. Romagnoli. Pessima entrata. Concessa una punizione. C'è la fatta. No. È stato reso inoffensivo. Sfrutta bene il varco. Giulio Baptista. Non c'è aria di gol. Credo che la situazione rimanga immutata fino al termine del primo tempo. D'Oprado. Grande intervento. Il pallone riconquistato. Miguel Garcia. Fannerud. Ancora con la palla qui. L'arbitro fischia per segnalare la fine del primo tempo. Gli allenatori avranno molto da dire secondo me. Hanno tentato di schiacciare gli avversari nella loro metà campo Mauro. Sì. Hanno fatto bene. Devono soltanto continuare così anche nei secondi 45 minuti. Nessun gol ancora. Siamo 0-0. E tutto è ancora in gioco nei secondi 45 minuti. Si riparte. Spero che il secondo tempo sia divertente almeno quanto il primo. Vediamo quale squadra sarà in grado di passare in vantaggio nel secondo tempo. Ancora sul pallone qui. Ben fatto per conquistare il possesso. Messa dentro. La può sicuramente mettere dentro. La può sicuramente mettere dentro. Conquistano il possesso. Buon intercettamento. L'ingre. Punizione concessa. Possesso guadagnato qui. E il tiro viene scoccato. Ci ha provato ma non è andata. Penso che abbia preso la giusta decisione. Ma forse è stato sfortunato nel tiro. Iaric. Wolcott. Possesso palla mantenuto qui. Sono partiti in contropiede. Ci sarà un gol. Ha fatto bene tenendo gli occhi fissi sul pallone senza farsi distrarre. Buon intercettamento. Siamo quasi nel quarto d'ora finale. Si è mosso bene per il cross. Passaggio intercettato. Senza problemi tra le braccia del portiere. Gesù Navas. Facilmente intuibile. Miguel García. È velocissimo. Bella palla. È già una minaccia. Tiene il possesso palla in ottima posizione. Ancora una possibilità per mettere un pallone in mezzo. È spazzata via. E la palla è fuori. C'è spazio sulla fascia. Gran difesa qui. L'arbitro fischia la fine. La partita si conclude qui. Un pareggio fuori casa. Li mettono in una condizione favorevole in vista del ritorno. La partita si conclude qui. La partita si confiaane con la quaALAGUE. La partita si controla. Un pareggio sulla fascia. Un pareggio. Un pareggio. La partita si controla. Un pareggio. Un pareggio. Grazie a tutti.